Buongiorno a voi e buongiorno a Luigi Di Maio, 31 anni, capo politico, candidato premier di quello che, secondo i sondaggi, potrebbe essere la prima forza politica del Paese. Come ci si sente a 31 anni? Buongiorno, l'obiettivo è quello di cambiare il Paese prima di cambiare Paese, quindi da 5 anni siamo impegnati nel cercare di ottenere risultati per i cittadini italiani, tra cui il taglio dei privilegi, il taglio degli sprechi che in questo Paese è la classe politica di cui ha abusato in questo Paese in tanti anni. Ora le parlo dalla Sicilia, dove tra dieci giorni il 5 novembre si vota per le elezioni regionali siciliane e lì ci giochiamo alla grande partita di andare a tagliare i vitalizi, gli stipendi ai deputati regionali e reinvestire in sanità e infrastrutture. Abbiamo dei giorni importanti, pochi siciliani sanno che il 5 novembre si vota perché queste elezioni sono state tenute molto basse e se ne è parlato pochissimo, quindi ne approfitto per dire andiamo a votare, altrimenti vinceranno sempre i soliti noti, gli impresentabili di Musumeci, gente che è stata anche in galera ed è candidata alle elezioni regionali. Allora, siccome siamo in Parco 10, ovviamente lei Di Maio lo sa, poi a questa sua dichiarazione ne seguiranno ovviamente le altre per gli altri candidati. Mi dice una cosa, cosa ha di diverso un elettore che vota PD da un elettore che vota Movimento 5 Stelle? Ma questo lo deve decidere ovviamente agli elettori. Secondo lei, lei le interpreta, no? In questi giorni... Cioè lei si rivolge a tutti gli elettori, no? Io mi rivolgo a tutti i cittadini italiani e in questo momento, visto che siamo in campagna delle elezioni siciliane, a tutti gli elettori e tutti i cittadini siciliani. C'è chi deciderà di votare per il PD, chi per il Movimento 5 Stelle e chi per altre forze politiche. Chiedo però a tutti quanti di farsi una domanda. Adesso tutti vogliono cambiare il Paese, tutti vogliono cambiare la Sicilia, ma quelli che l'hanno già governata, perché non l'hanno cambiata mentre la stavano governando? Io penso che si debba fare una grande operazione verità su questi partiti e soprattutto sul partito che attualmente governa il Paese che l'altro giorno insieme alla Lega Nord, Forza Italia, insieme a tutti gli altri partiti, incluso quello di Alfano, si sono votate una legge per togliere di nuovo le preferenze agli italiani, una legge elettorale e riprendersi ancora una volta alla poltrona togliendo il diritto di voto agli italiani. Ora è il momento di reagire, è il momento di dire che loro sono tutti insieme per provare ad assicurarsi un privilegio, proviamo a mandarli a casa prima di tutto qui in Sicilia e poi ognuno alle politiche voterà chi vuole, però qui c'è un grande blocco di ammucchiate partitiche che stanno provando a reimpossessarsi di una regione massacrata che ha il 22% di soccupazione generale, che ha 5 miliardi di euro di debiti ed è la prima per pensioni d'oro in Italia, qui si stanno mettendo tutti quanti insieme per provare a battere Giancarlo Cancelleri, ma la notizia è che noi gli teniamo testa e il 5 novembre potrebbe diventare la prima regione 5 stelle d'Italia e il 6 gli tagliamo i privilegi che da anni qui, grazie allo statuto speciale, hanno potuto utilizzare e di cui hanno potuto abusare, soprattutto della pazienza dei cittadini di questa regione. Andiamo alla legge elettorale, molti sono convinti che i commentatori vi hanno dato ragione, insomma è una legge elettorale che premia le coalizioni, quindi sembra fatta apposta per danneggiarvi, però tirandovi sempre fuori da qualunque accordo, non le sembra che date l'alibi poi agli altri partiti di mettersi d'accordo anche per fare cose che non vi avvantaggiano. Io penso che questo Rosatellum, così come si chiama l'ennesima legge elettorale con un nome strano, è una legge fatta sulla paura per il Movimento 5 Stelle. Guardi che l'altro giorno è successo qualcosa di clamoroso, la Lega Nord ha votato la fiducia al governo del PD, il governo che hanno attaccato per anni, gli hanno votato la fiducia pur di assicurarsi una legge per avere qualche poltrona in più. L'hanno fatto insieme a Forza Italia ed Alfano, questi tre fingevano di combattere il centro-sinistra e poi si sono alleati, e tutti insieme contro il Movimento 5 Stelle. Io sono ottimista perché così ci hanno fatto un favore, perché quando tutti quanti si mettono insieme e fanno una legge sulla paura del Movimento 5 Stelle, beh, io penso che alle prossime elezioni politiche non ci sia tanto da ragionare su collegi uninominali, listini proporzionali. La partita non è chiusa, anzi è appena iniziata. I cittadini italiani possono abolire questa legge incostituzionale senza preferenze andando a votare per il Movimento 5 Stelle e facendo saltare il disegno di tutti gli altri partiti che stanno provando a fare, a favorire le ammucchiate, che non sono coalizioni, sono delle vere e proprie ammucchiate, pur di batterci. Io faccio presente che, per quello che valgono i sondaggi, noi oggi teniamo testa a coalizioni di 5-6 liste con una lista. Guardi, le faccio vedere, adesso il Presidente della Repubblica intanto, che voi chiamate spesso in causa, Mattarella, che spiega a Senio Bonini, non a Senio Bonini, a chi la spiega. Buongiorno Senio. Ieri il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha parlato di fronte a una parola di studenti che era ospite del Quirinale e ha voluto tornare, con temi molto semplici, spiegati ai bambini sul perché dovrà firmare questa legge Rosatellum, la nuova legge elettorale. Sentite le parole del Presidente della Repubblica. Guai se ognuno pensasse che le proprie idee personali prevalgano sulle regole del dettato della Costituzione, la Repubblica non funzionerebbe più. Quando mi arrivo a qualche provvedimento, io anche se non lo condivido appieno, ho il dovere di firmarlo e se non firmassi andrei contro la Costituzione. C'è un caso in cui posso, anzi devo non firmare, quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione. Ecco, la spiegazione è molto chiara, Di Maio. Sì, io condivido il pensiero del Presidente della Repubblica. Quindi fa bene a firmare la legge elettorale? Gli chiediamo di non firmarla perché questa è... Perché lei pensa che sia palesemente incostituzionale. No, noi gli chiediamo di non firmarla perché è incostituzionale. Ma è chiaro, è un'altra legge che non solo ci toglie la possibilità di votare... Di Maio? Mi scusi, mi spieghi palesemente incostituzionale. Anche il Mattarellum aveva listini bloccati, aveva il candidato di collegio. Se lo ricorda, no, il Mattarellum? Sì, senza entrare nei tecnicismi, il Mattarellum aveva due schede. Tu potevi votare per il tuo candidato nel collegio uninominale e per i candidati nelle liste proporzionali. Qui con un voto è un flipper. Dai un voto su una scheda, non puoi mettere neanche la preferenza, e mandi questo voto a sette, otto liste differenti con decine di candidati al suo interno. Tra l'altro senza la possibilità di indicare il candidato. Io credo che abbiano storpiato la legge del Presidente Mattarella, il Mattarellum. E si stiano freggiando del Mattarellum, ma questa è un'altra cosa ed è palesemente incostituzionale. Poi faccio un appello, approfitto della sua trasmissione. Il Presidente della Repubblica tenga anche conto del gesto del Presidente Grasso di ieri. Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, è stato per sette anni procuratore antimafia. È stato uno di quelli che sicuramente nel partito di governo non era un renziano. Ieri è uscito dal Partito Democratico e oggi ci fa sapere che è uscito proprio perché su quella legge elettorale si sono messe in imbarazzo le istituzioni. Si tenga conto di questo gesto, e lo dico anche ai cittadini italiani, se anche Pietro Grasso abbandona il PD. Ormai nel PD restano Renzi e i Renzi Boys, che hanno preferito Verdini, che è un condannato per bancarotta, a Pietro Grasso, che è stato procuratore nazionale antimafia, uno di cui Renzi si voleva freggiare anche nella campagna elettorale delle elezioni regionali siciliane per ripulirsi la faccia e lui non c'è stato. Non siamo stati d'accordo su tutto con Pietro Grasso, ma si deve dire che il gesto del Presidente del Senato è un altro gesto politico di cui il Presidente Mattarella dovrebbe tener conto, vista la crisi intorno a questa legge elettorale che sta sfasciando il partito di maggioranza. E se lo fa Pietro Grasso è un segnale in più per fare una riflessione su questa legge elettorale. Banca Italia, cosa riproverete a Visco? Che rappresenta quella Banca Italia che doveva controllare gli istituti di credito e non lo ha fatto bene. Come Consob doveva controllare sui prodotti finanziari e non lo ha fatto bene. Bene, risultato, abbiamo banche con voragini di bilancio, cittadini risparmiatori truffati dalle banche ed è giusto, ma noi lo diciamo da un anno e mezzo, da quando c'era il governo Renzi, che si cambino i vertici di queste istituzioni, ma anche la modalità di elezione del Presidente, del Governatore di Banca Italia. Noi, per esempio, proponiamo che lo elegga il Parlamento a due terzi, come si fa con la Corte Costituzionale, così che possa essere una carica del più superpartente. Chi le piacerebbe al governo di Banca Italia? Chi le piacerebbe al governo? C'ha un nome di qualcuno che le piacerebbe come governatore? Il tema non è la persona, è poter scegliere tra persone indipendenti che restino indipendenti. Negli anni in Banca Italia c'è stato un grande conflitto di interessi, perché pensi che la Banca Italia che doveva controllare le banche aveva al suo interno come azionisti le banche che doveva controllare. Ora, quella cosa non è il primo problema, ma è stato uno dei problemi che ha portato fino ad ora. Ma secondo lei, voi avete presentato... L'Italia ha speso 20 miliardi di euro, mi scusi un attimo, poi... Sì, perché è un po' difficile l'interazione, ovviamente, lo spiego perché lei ha un po' di ritardo sulla mia voce, no? Per cui purtroppo, per questo sembriamo un po' affaticati, ma a motivo tecnico, vada Di Maio. Le stavo dicendo, negli ultimi due anni l'Italia e gli italiani hanno messo 20 miliardi di euro nelle banche per salvarle. Io penso che quelli fossero dei soldi dei correntisti e quindi dovevamo preoccuparci di salvare quelle banche. Ma quando i cittadini mettono 20 miliardi nelle banche per salvarle, e allora quelle banche devono diventare degli italiani e con quelle diamo credito alle imprese e alle famiglie in difficoltà. Come vogliamo fare in Sicilia? Creando un istituto di credito pubblico che aiuti gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori in difficoltà, gli imprenditori, le famiglie che vogliono mettere su famiglia. Di Maio, ma perché questo confronto con la Boschi non lo fa in televisione? Lei ha detto che la Boschi lo ha sfidato, ci vediamo in televisione, lei ha risposto facciamolo di fronte ai risparmiatori di Banca Etruria, però se parlasse in televisione dareste modo a tutti di conoscere le due posizioni su un tema così importante e così rilevante. Sembra un po' un modo di sfuggire, no? Rilanciare la palla in questo modo. Di Maio, dai. Venga in televisione, venite anche qui. Sì, sì, venite anche qui. Sì, sì. Invito aperto. Facciamo così, lei viene con la sua trasmissione in piazza, davanti ai risparmiatori, lo facciamo in televisione ma da una piazza, perché lei mi ha detto, la Boschi, ma tu hai paura di andare in televisione davanti a milioni di italiani? No, io voglio farlo in televisione ma da una piazza davanti ai risparmiatori di Banca Etruria. Tu forse hai paura dei risparmiatori di Banca Etruria perché sono quelli che hai mandato sull'Astrico per salvare la banca di tuo padre, tu e Renzi. Vabbè, però un'altra cosa volevo chiederle. La mozione più dura sul disco l'avete fatta voi, no? Però i giornali hanno attaccato soltanto il PD e Matteo Renzi. Come se lo spiega secondo lei? I giornali non sono quelli che attaccano sempre voi, invece in questo caso hanno attaccato solo Renzi e PD. Beh, io ho visto che questo teatrino tra Renzi, il governo e Visco è stato alimentato. Cioè io mi sarei aspettato un'analisi dai giornali italiani che dicevano guardate che Renzi ha governato negli ultimi tre anni, ha lasciato i responsabili del crack delle banche lì dove erano, adesso che è fuori dal governo e fa il segretario del PD fa finta di essere il difensore dei risparmiatori. E infatti il meccanismo ha funzionato perché Renzi ha fatto il ribelle. Però, aspetti, Renzi non lo poteva cambiare, il governatore prima. Certo, poteva chiederne le dimissioni come abbiamo noi chiesto di fare più volte quando si è scoperto che c'erano banche che avevano truffato tanti cittadini che oggi hanno perso i loro risparmi. E se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia chiedevano le dimissioni dei vertici di Banca Italia e di Consob era un atto politico. Come è un atto politico il fatto che ieri invece Gentiloni ha rimesso al suo posto Visco, chiedendo di nuovo di confermarlo, colui che era capo di Banca Italia quando si svolgeva il disastro delle banche italiane. Che è un po' la storia della politica italiana, perché come possiamo pensare in questa regione siciliana o in questo Paese che chi ha provocato i disastri possa risolverli? L'unica discontinuità oggi, secondo me, che vedo è votare il Movimento 5 Stelle e dare un'opportunità a una forza politica che con questa gente non ha mai avuto a che fare e che non ha fatto i disastri che hanno fatto loro e vengono anche citati come grandi statistiche. Le faccio ascoltare Di Maio, Roberto Saviano, perché poi quando si parla di voi si parla spesso come dei populisti e le faccio sentire cosa pensa Saviano, così poi dopo replica. È la clip numero 20, dopo la sigla e dopo Di Maio. Chi sono oggi populisti in Italia? Tutti coloro che non entrano mai nella complessità. Quando in maniera semplice puoi spiegare quello che sta accadendo, ecco, quando tu ti tieni in superficie sei un populista. Chi lo fa? Quasi tutte le forze politiche, ovviamente se dovessi trovare dei momenti, il momento in cui, per esempio, Di Maio ha definito taxi del mare l'ONG, il momento in cui Salvini in maniera ridicola arriva persino a criticare il film selezionato in Italia, per gli Oscar, che si occupa di Zingari. Quello è populismo, non entrare mai nella complessità. Il PD quando cerca di far passare, ha risolto il problema dei gommoni facendo un'alleanza con i trafficanti libici, chiamati guardia costiera, con i trafficanti libici. Quello è populismo, tutto ciò che rifugia dalla complessità. Secondo te i populisti alimentano la paura? Vivono di paura. Alimentare la paura è molto facile, soprattutto quando stai parlando con persone che non si danno tempo, perché per capire devi darti tempo. Devi dare il tempo di reaggerti in un intero giornale, devi darti tempo di guardare oltre un post, devi darti tempo anche di discutere. Quando tutto questo è impossibile, quando tu non hai il tempo per tutto questo, cosa succede? Chi vince? Chi è più virale? E la viralità quando nasce? Quando parla lo stomaco? Rieccoci con Luigi Di Maio. Staviano dice che il populismo è la superficialità con la quale si affrontano certi temi, chiama in causa anche lei. Di Maio. Sì, io però non mi sento chiamato in causa quando sento parlare di populismo, perché, vede, noi abbiamo affrontato in questi anni tantissimi temi in Parlamento. Io ho fatto per cinque anni il vicepresidente della Camera, le parlo da questa regione dove siamo stati cinque anni all'Assemblea regionale siciliana. Siamo stati definiti populisti quando, per esempio, in questa regione ci siamo tagliati gli stipendi per costruire una strada perché era crollato il ponte della Catania-Palermo. Siamo stati definiti populisti quando abbiamo rinunciato al vitalizio, siamo l'unica forza politica che ha rinunciato al vitalizio in Italia. Io non mi sento offeso quando vengo definito populista per questo e neanche quando mi dicono che sono superficiale, perché non siamo superficiali. Abbiamo cercato di affrontare sempre tutti i temi col massimo dell'attenzione e se vogliamo discuterne con Saviano della complessità politica di questo Paese ne sarò ben lieto perché io sono uno di quelli che è ben consapevole della complessità politica del Paese, però sono anche consapevole del fatto che se la politica fa la scelta giusta, a volte anche una scelta di netto taglio rispetto al passato, questo Paese può cambiare. E quindi anche l'altro giorno, quando il PD ha deciso di allearsi con Verdini, Salvini, Berlusconi per votare una legge che toglie le preferenze ai cittadini italiani, poteva fare un'altra scelta, poteva decidere di portare avanti una legge per il diritto di voto. Dopodiché, no, Di Maio, nel senso allearsi per le leggi elettorali, ci dobbiamo mettere d'accordo su questo, devono essere il più largamente condivise. Se sono largamente condivise, dovrebbero andare bene in realtà. Il problema è che voi non la condividete, no? Però non si può imputare qualcuno di mettersi insieme per fare una legge elettorale. Non trova, Di Maio? Guardi, io le dico questo. Siamo d'accordo sul fatto che una legge elettorale deve essere largamente condivisa, ma deve essere costituzionale. Questi si mettono d'accordo solo quando ci devono togliere la preferenza o quando ci devono aumentare le tasse o ci devono allungare l'età pensionabile. Io li ho visti sempre d'accordo per i fatti loro. Quindi non è che siccome è ampiamente condiviso tutto è giusto. Bisogna vedere su cosa si mettono d'accordo con i signori di... Dopodiché, vedremo perché poi abbiamo avuto, devo dire, il porcellum anticostituzione incostituzionale. L'italicum che ha avuto appunto delle limature dalla Corte Costituzionale sarebbero state due leggi diverse, saremmo andati a votare con due leggi diverse, non proprio armonizzabili. Vedremo se questa legge, speriamo, ma io lo dico per il Paese, non avrà questioni di costituzionalità. Ovviamente Di Maio dice che non è così, ma insomma quello è... Mi permetta una battuta, noi eravamo quelli là... Se Mattarella la firma pensa che sia costituzionale, no? Il Presidente della Repubblica. Se Mattarella la firma... Il Presidente della Repubblica fa le sue valutazioni. Come pensava che l'italicum fosse costituzionale? L'ha firmato, non è che ha ricevuto delle limature, è stato smantellato. Di Maio, perché lì c'è il tema della palese incostituzionalità, cioè il Presidente non può affirmare se è proprio evidente che è incostituzionale, se no poi appunto il giudizio va alla Corte Costituzionale. Ma ci sono stati Presidenti della Repubblica che hanno rimandato alle Camere tante leggi che non è che erano palesemente incostituzionali. Il Presidente ha la possibilità di rinviare alle Camere la legge per non firmarle e quindi dare un segnale chiaro. Ma questo è quello che gli chiediamo nel rispetto delle sue prerogative. Senta, domanda. In campagna elettorale, l'aggiunta Raggi sarà un fiorall'occhiello da portare come esempio di buona amministrazione? Ma io penso che in campagna elettorale dovremo raccontare ai cittadini italiani che per esempio la società dei trasporti partecipata più grande d'Italia, l'ATAC, che è la società dei trasporti romana, noi abbiamo avuto il coraggio di portarla davanti a un tribunale e dire adesso premiamo le persone che lavorano in questa azienda e tagliamo quello che non serve tra gli sprechi e i privilegi. Siamo stati primi ad averlo fatto. Possiamo raccontare che l'Assemblea Capitolina costa il 90% in meno di costi della politica di quando c'erano gli altri partiti. Possiamo anche raccontare che nulla è semplice da cambiare in questo Paese, ma ce la stiamo mettendo tutta per risanare dei comuni. È un fiore all'occhiello quindi l'Aggiunta Raggi. Cioè da dire anche che adesso noi per esempio... di nuovo un fiore all'occhiello per il Paese, non l'Aggiunta Raggi. Noi dobbiamo ragionare sui risultati per le persone. E mi permetta di dire anche un'altra cosa. Io adesso vi parlo dalla Sicilia. Noi qui abbiamo l'opportunità il 5 novembre di governare una regione e fare le leggi regionali con lo statuto speciale. che poi devo riequilibrare tutta la parcondicio di Maio. Maio, più lei parla di Sicilia più devo riequilibrare. Una volta che si parla di elezioni regionali siciliane non ne parla più nessuno. Ne parleremo la settimana prossima, vedrà Di Maio che ci sarà da discutere abbastanza. Per cui avremo modo anche con Cancellero. Ci mancherebbe il nostro dovere di servizio pubblico Di Maio. Le faccio rivedere un altro Saviano, perché se si ricorda lui si voleva candidare anche lui alla leadership del Movimento 5 Stelle. Saviano. Qualche mese fa hai lanciato la provocazione di candidarti con i 5 Stelle. Perché l'hai fatto? Per mostrare che erano assolutamente delle primarie fasulle. Di Maio era stato già deciso dai vertici, non c'è stato alcun dibattito. Non creare correnti ha ucciso l'anima iniziale del Movimento 5 Stelle. E a un certo punto si sono candidati chiaramente dei nomi imparagonabili, diciamo, alla forza comunicativa che aveva avuto il senato Allora Di Maio. E allora l'ho fatto apposta per dimostrare. Allora vediamo, datemi la possibilità. Ovviamente non hanno neanche disposto. Grillo lo fece col PD. Quindi ho provato, era ovviamente una provocazione, ma è servita a accendere una luce su come quelle primarie fossero assolutamente una messa in scena. Di Maio, una messa in scena, dice Saviano. Per lei è un esempio invece la sua elezione? Mi fa piacere che abbia detto che era una provocazione, perché se voleva candidarsi bastava iscriversi un po' prima e seguire l'iter per riuscire a candidarsi anche lui. Pensi che bello che sarebbe stato Di Maio, le sarebbe stato bello un confronto fra lei e Saviano come leader? Le sarebbe piaciuto avere Saviano come sfidante? Ma tanto io le dico questo. Il fatto che sono andato da solo, insieme a dei candidati meno conosciuti, per questo mi hanno accusato di una votazione plebiscitaria. Se avessi corso con altri colleghi più conosciuti come Alessandro Di Battista, Roberto Fico, Paola Taverna, avrebbero detto che il movimento si era spaccato. In un modo o in un altro, in ogni caso, sarebbe stata un'occasione di critica. Però le dico anche che adesso abbiamo di fronte le elezioni politiche e su quelle bisogna prendere milioni di voti. Io lo auguro, come lo auguro a tutti i partiti, di andare al meglio. Poi in realtà a noi la competizione politica Di Maio Pace piace. No, ma questo non lo dicevo con certezza, lo dicevo perché poi si criticano le primarie, ma per noi ha un valore relativo perché la cosa importante adesso è andare alle elezioni politiche e parlare agli italiani e raccontare l'idea di paese che vogliamo realizzare. Ma se a un certo punto lei e Grillo non vi trovate d'accordo, non vi doveste trovare d'accordo, su chi decide, Grillo o lei? Ma io e Grillo siamo sempre andati d'accordo, soprattutto perché... Nel Movimento 5 Stelle, prima io senti... Ah beh, per carità, no, ma lo dico perché molto spesso si ragiona per il Movimento come per gli altri partiti. Prima Saviano diceva non aver creato correnti, mi pare abbia detto il pensiero unico. Il tema è che qui, in questo Movimento, siamo tutti d'accordo ad abolire la legge Fornero, il Jobs Act e la buona scuola. Non è che ci sono correnti che vogliono abolire l'articolo 18, altri che li vogliono difendere. Però aspetti, delle volte... Mi scusi, è perché col collegamento e il ritardo è veramente un disastro. La prossima volta in studio la vogliamo, Di Maio, quando ripassa per Roma è studio. Vengo da lei, vengo in studio, voglio completare solo il discorso. Nei partiti, nello stesso partito di centro-sinistra del Partito Democratico, c'era Renzi che ha abolito l'articolo 18 e un'altra corrente che voleva difendere l'articolo 18. Da noi le divisioni sui temi non ci sono perché il programma è unico. Abbiamo avuto degli interpreti del programma in questi anni che erano i nostri candidati sindaco, i candidati presidenti di regione, adesso abbiamo un candidato presidente del Consiglio che sono io, che sceglierà i ministri, darà la linea politica nel periodo della campagna elettorale e quindi è anche la persona che presenterà il programma, il simbolo e le liste. Ma il programma è lo stesso, cioè noi tutti quanti lo vogliamo abolire il precariato in Italia creato dal Jobs Act o il fatto che la legge Fornero costringa un lavoratore edile a stare sulle impalcature a 40 gradi, a 40 metri di altezza in agosto. Questo è un punto fondamentale perché le correnti nascono a volte intorno a delle differenze di veduta sostanziali. Il Partito deve difendere i lavoratori, ha abolito l'articolo 18 che è il PD e nasce al suo interno una corrente che vuole ripristinare i diritti dei lavoratori. E' una follia anche se ci pensate. Beh, ho anche democrazia interna, però non mi ha risposto. Siccome la realtà dei fatti non è mai immutabile, no? Ove mai lei e Grillo doveste essere in disaccordo su qualcosa? Lei immaginiamo, lei è premier, no? Succede una cosa X che non può essere prevista. Lei la pensa in un modo, Grillo la pensa in un altro. Chi decide? Sì. Ma il Presidente del Consiglio dei Ministri risponde al Paese, alla Nazione e prende lui le decisioni. Ma ci mancherebbe altro. Quindi deciderà lei se ci dovesse essere una situazione, diciamo così, di non accordo di base? Lei che decide, Di Maio? Ma abbia pazienza. Noi ci stiamo candidando a governare il Paese con delle liste di candidati parlamentari che faranno la maggioranza in Parlamento, se vorranno gli italiani, del Movimento 5 Stelle con una squadra di ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le pare che poi deve decidere qualcun altro che non è neanche eletto in Parlamento, non è eletto al governo del Paese. È logico che decide il governo del Paese e la maggioranza parlamentare nella maniera più condivisa possibile con i cittadini italiani, in base al programma elettorale che è stato presentato in campagna elettorale. Perché è la cosa più rivoluzionaria che potremo fare sia in Sicilia sia a livello nazionale e il giorno dopo inizia a realizzare il programma elettorale. Sì, no, pensate, io facevo la domanda perché a Roma c'è stato un po', a un certo punto si diceva che non era più la Raggi, c'era un gruppo di parlamentari che controllavano la Giunta, quindi abbiamo avuto una diversa impressione. È una vecchia storia. Per cui ho fatto per questo questa domanda, ha capito Di Maio, per cercare di chiarire, o giustamente lei ha chiarito nel modo più netto possibile. Sì, no, no, ma io lo capisco benissimo, perché questa è una vecchia storia che utilizzano i nostri oppositori contro di noi. Anche qui in Sicilia si dice che i Giancarlo Cancelleri decideranno Grillo e Casaleggio, però Musumeci, che è il candidato del centrodestra, c'è addietro Miciche, gente che è stata in galera, gente che è sotto processo. Quelli si decideranno per il candidato del centrodestra, perciò chiede ai siciliani, ma andiamoli a casa prima che si reimpossessino un'altra volta alla Regione. Allora, due domande secche ultime e poi le saluto. Tra Rajoy e Puggemonda, a che parte sta? Ma io sono sempre stato uno di quelli che diceva che le questioni degli altri Stati non dobbiamo ingerire, come non dovevamo infierire sulla Libia quando l'abbiamo bombardata, quando non dovevamo infierire nelle questioni di altri Paesi. Allo stesso modo io spero per la Spagna che ci sia una collaborazione tra istituzioni, perché gli spagnoli ne possano giovare tutti. Detto questo, sono questioni interne al loro Paese e cadrei nelle solite diatribe politiche tra nazioni se anche io iniziassi ad intervenire nelle questioni di un altro Paese. Altrimenti saremmo degli incoerenti se cominciassimo a prendere le parti dell'uno o dell'altro. Bolzaneto, cosa ne pensa? Quella è stata una pagina triste del nostro Paese. Adesso abbiamo avuto anche delle condanne da parte della Corte di Strasburgo. E credo che in questo momento storico tanti anche poliziotti, tante anche organizzazioni di rappresentanza delle nostre forze dell'ordine siano coscienti di quello che è successo lì. Io non generalizzo mai, ma sappiamo che quella è stata una delle pagine più tristi del nostro Paese, soprattutto perché lì c'era lo Stato e quello che è successo non è un comportamento degno dello Stato. Detto questo ringrazio sempre tutte le forze dell'ordine, i carabinieri, i poliziotti, tutte le nostre autorità che ogni giorno ci difendono nelle nostre strade, nella lotta alla mafia, nella lotta alla criminalità organizzata e nella lotta al terrorismo. Un'ultima domanda personale di Maio, poi la lascio andare davvero, rispetto a cinque anni fa quando è entrato in politica. In cosa è rimasto uguale e in cosa è cambiato? Beh, sicuramente avevo sottovalutato gli altri partiti, non c'è fine al peggio. Pensi che quando sono arrivato, aprendo i bilanci... Ma neanche una cosa buona ha trovato questa... Alla Camera si facevano rimborsare anche... No, dico neanche una cosa buona ha trovato in questi partiti. Sto rispondendo prima alla seconda, poi... Non c'è un rapporto da me... Poi le rispondo anche alla prima. Va bene. La seconda che mi ha chiesto è che non c'è fine al peggio, nel senso che quando sono arrivato qui ho scoperto che si facevano rimborsare anche le punture d'insetto e le insolazioni parlamentari con una polizia assicurativa di 300 mila euro. Le dico anche che ho conosciuto tante brave persone nelle altre forze politiche che però non hanno il peso per poter cambiare quelle forze politiche in meglio. Ed è per questo che io chiedo sempre ai cittadini italiani, non ci appelliamo al fatto che in ogni forza politica ci sono delle brave persone, ma valutiamo le forze politiche per il saldo negativo con cui ci hanno consegnato questa nazione che è veramente in serie difficoltà. E quando ci sono degli indici positivi nell'economia dobbiamo ringraziare i nostri imprenditori, non il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché i nostri imprenditori, nonostante la politica, hanno fatto grandi risultati per il nostro Paese, nell'export e anche nell'economia interna. Va bene. Io la ringrazio Di Maio, le auguro una buona giornata, un buon fine settimana, buona campagna elettorale, che sia una sfida quella ovviamente siciliana, combattuta con grinta e con orgoglio. Intanto restiamo a Roma con il nostro Lorenzo Falco.